... Ci troviamo insieme a Vincenzo D'Ercole, archeologo coordinatore del restauro del letto funerario di Navelli, la tomba numero 4. Si è occupato del restauro dell'Istituto Superiore di Conservazione e il restauro di Roma. Di cosa si tratta? Dunque, è un letto funerario appunto rivestito in osso, nel senso che ovviamente la parte funzionale era il legno e il cuoio. Come tutta questa produzione che arriva in Italia nel II secolo a.C. dopo la conquista della Grecia da parte di Roma, in Abruzzo trova un grande favore. Tant'è che negli ultimi anni abbiamo trovato oltre una diecina di letti in osso, fra cui molto famoso quello della tomba 520 di Fossa, che è ad essere esposta al Museo archeologico nazionale di Chieti. Questo di Navelli fu trovato nel 2007, nel luglio, erano i giorni in cui all'Aquila scoppiò l'incendio, che devastò gran parte del territorio, seguendo i lavori della strada statale 17. Cioè l'ANAS stava mettendo in sicurezza questo tratto di 10 km di strada da San Pio delle Camere a Navelli. Però nella zona dei Navelli sono emersi resti dell'antico abitato romano, che si chiamava Incerule, e della Necropoli, di cui questo è uno degli elementi più importanti. Lo scavo del 2007 fu reso immediatamente visibile all'Aquila e agli Aquilani, perché facemmo una mostra per la perdonanza, quindi nell'agosto del 2007, con alcuni dei frammenti di questo letto. Altri frammenti, che è un pezzo molto bello, molto ricercato, sono andati in mostra a Villa Adriana a Tivoli, al Museo del Castello del Buon Consiglio a Trento e a Monaco di Baviera. Poi finalmente siamo riusciti, col sito centrale per il restauro e la conservazione, a restaurarlo completamente. Quindi nel luglio appena passato, è finito il restauro, l'abbiamo presentato in mostra alla sede del San Michele, del Ministero dei Beni Culturali, e ora verrà l'Aquila. A chi è attribuibile questa tomba? Dunque, le tombe a camera, in cui sono deposti personaggi importanti su letti funerari, sono in genere tombe di famiglia. In questa tomba, in particolare la tomba 4, sono state trovate sette persone, sette individui adulti e due bambini. Quella a cui apparteneva il letto è una donna, una donna morta fra i 30 e i 40 anni di età, morta in stato interessante, forse anche a causa di questo, potrebbe essere la causa della morte, ma ovviamente non lo sappiamo. Di questa donna forse abbiamo il ritratto, nel senso che c'è una piccola parte, un tassello quadrato sul letto, che forse ritrae la defunta, la proprietaria appunto del mobile così raffinato, e come ha studiato un archeologo aquilano, Alberta Martellone, che lavora nella superintendenza speciale di Napoli e Pompei, questa donna è acconciata all'Ottavia. Ottavia era la sorella di Augusto, quella che poi andò in sposa a Marco Antonio, non avendo molta fortuna, diciamo così, nel matrimonio. Ottavia ha elaborato un particolare tipo di acconciatura che tutte le donne ricche, importanti alla moda, di Roma adottavano. E quindi questa signora di Navelli, o meglio di Incerule, si pettinava come la sorella appunto del futuro imperatore di Roma, Augusto. E questo ci permette di capire, insieme ad altri elementi, una moneta, gli oggetti del corredo, che l'ultima persona ad essere sepolta in questa tomba di famiglia era questa signora, diciamo, alla fine del primo secolo avanti Cristo. Probabilmente la tomba è stata usata per circa un secolo, seppellendo i vari membri della famiglia, e finisce la sua storia subito prima dell'impero romano. Quali sono le caratteristiche che presenta? Ma, come accennavo prima, i letti rivestiti in osso sono una delle prerogative di questa nostra regione. Ed è anche ovvio, pensando che la caratteristica principale dell'Abruzzo antico era la pastorizia, per cui le ossa erano la materia prima che vieno dagli animali di grandi dimensioni, quindi da buoi, da cavalli, con cui facevano appunto questi capolavori. Questi letti, oltre ad essere rivestiti con materiale apparentemente anonimo, povero, come le ossa degli animali mangiati, raccontano quello a cui credeva di personaggi. Per esempio, in questo della tomba 4 di Navelli, sempre lo studio di Alberto Martellone, ci fa capire che sul cuscino, il fulcrum, diciamo, del letto, c'è quello che noi chiamiamo Eros, c'è una divinità, un bambino, con le ali, che suona la cetra. Sul cilindro, cioè la parte più ricca, più grande della gamba, ci sono invece le tre menadi, una che balla in maniera molto esagerata, potrebbe essere molto sfrenata, una che ha un coltello, un pugnale in mano per sacrificare un animale e l'altra che suona un timpano. È un modello molto colto perché riprende quello che lo scultore Callimaco, che operava ad Atenea e a Corinto alla fine del V secolo a.C., ha prodotto in marmo in molte opere appunto in Atene, sul Partenone. Questi modelli di Callimaco sono ripetuti fra II e I secolo in tante opere romane, tra cui appunto questo nostro letto. Per cui c'è una storia legata alla vita oltre la morte. Cioè Dioniso è il dio che, da cui prende anche un po' lo spunto del cristianesimo, è il dio che, come dire, muore e risorge. In quel momento a Roma si era diffuso questo culto, che appunto precede di non moltissimo, se vogliamo, il cristianesimo. Augusto è pochi anni prima, ovviamente, della diffusione anche in occidente del cristianesimo. E quindi per molti italici, come nel caso dei Vestini dell'Aquila e di Naveglia, per molti romani, questa era una religione importante che dava forse spinta a vivere meglio. Per cui in questi letti ci sono anche le loro credenze religiose. Quindi non sono solo opere d'arte fine a se stesse, ma sono espressione di quello a cui loro credevano. Chi si è occupato della ristorazione? Ma ha una storia abbastanza interessante questo letto, perché, se vogliamo, anche così politica e moderna. I primi restauri furono fatti con i restauratori del Museo di Kabul. Cioè l'Italia aveva fatto un accordo di cooperazione, erano gli anni dell'Afghanistan, per cui tutti e nove i restauratori che lavoravano a Kabul furono portati in Italia al Museo di Prestoria di Celano e lì cominciamo, l'hanno appena scavato, la prima pulizia di questo manufatto. In realtà la cooperazione con l'Afghanistan poi non è andata avanti per motivi politici sostanzialmente. Quindi il lavoro è stato ripreso in anni recenti dall'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione e quindi a loro cura, con il coordinamento di alcuni restauratori, mio e di altri, è stata portata a compimento quest'opera che io spero gli aquilani apprezzeranno, perché se il letto di fossa della tomba ai 520, quello con Ercoli, il leone Nemeo, è molto grande, molto bello, molto evidente, questo è più piccolo, più calligrafico direi come decorazione, ma è un altro tipo, forse, di opera d'arte, ma altrettanto significativo. Quindi dal sabato 28, nel pomeriggio, si inaugura la mostra al Palazzetto dei Nobili per le giornate europee del patrimonio, rimarrà visibile alcuni giorni e poi forse riusciremo a farlo girare ancora un po' per l'Italia e per l'Europa fino a tornare poi nella sua sede naturale che è il Museo archeologico nazionale di Chieti che già ospita sia il letto in osso di Colle Longo, quello studiato ai tempi da Cesare Letta, che è due letti trovati da me a Fossa e a Bazzano e rende il Museo di Chieti, oltre a tutte le testimonianze con il grillo di Capestrano così importanti e significative, un caposaldo di questo tipo di materiali. Perché consideriamo che su circa 300 letti funerari rivestiti in osso fra II e I secolo a.C., presenti in Europa, in Tunisia, in varie zone del Mediterraneo, oltre un centinaio vengono dall'Abruzzo. Per cui l'Abruzzo è la regione che ne produceva di più. Di recente è stato trovato in un relitto a Ventotene il carico di una nave che portava dei letti abruzzesi a Ponza, dove era stata confinata la sorella di Augusto, che era un po' licenziosa, diremmo, che poi si era fatta venire questi letti dall'Aquila, dall'Abruzzo, verosimilmente. Per cui era una prerogativa di questa regione. E sono molto contento che stiamo cominciando non solo a trovarli, ma anche a avere l'occasione per restaurarli, presentarli al pubblico, e potrebbero diventare un'occasione di unicità per questa regione. Cioè noi dovremmo cercare di valorizzare le prerogative che vanno ovviamente dai prodotti dell'eterno gastronomia, eccetera, il territorio per quello che ci è rimasto, ma anche questi prodotti del passato che sono veramente originali, importanti, e che in Abruzzo vengono poco considerati dagli stessi amministratori, dalla stessa classe politica. Grazie.